con l'arrivo dell'estate sappiamo che c'è l'aumento dei cantanti neomelodici ultime notizie dal mondo neomelodico l'estate è arrivata quindi tenetevi pronti ai vari luis fonsis marco bueno e kinder fetta non ma colleghiamoci subito con i nostri amici neomelodici che ne hanno tirata fuori un'altra delle loro a te la linea diego grazie sempre io ah già sai inutile che ti dico che cosa devi fare qua sotto abitare i tuoi amici che è uscito il video già sai come non mi fa parlare stava la senda marone l'arca e potrà solo giglie che non c'entra suonutip sta ripresa e partuto alle 18 e 50 e finita a luna e 08 immagino a stuorum marone che la telecamera e l'oppo telefono così per cinque ore mi devi morire tu se scappa da suon perchè si scappa da suon l'hai detto no ma mancia misi niente cingura roppo si accorta un messaggio di aspetta ma che mi sono capo ma fa piccola non sta smasciando e te non sei mai stata mai una storia vera perchè cantando siiii oh io sapessi tu per me c'è mai da nuda lei sta parlando è intanto super santos sta in due pallone per te non sto dormendo più manca stanotte lettifico sta intanto a buttare i ketchup abitare via mato mato io ci mettevo colori da tutte vase ah no capì che stai sviluppando i rullini io c'ho la stanza rossa con i sviluppi i rullini e poi si hanno trovato a farla una concessionaria io c'ho il passo è breve e visto che ti hanno scritto in bit la situazione attuale è meteorologica è una k ha fatto la trasformazione in super ga 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 come Goku e Fukuyo Ken è tornato in zona rossa è da un girato guetto in hé le fesse pare però lei è brava non te nuca i ruggai ga 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 però però ela è brava scordiamo per sempre stasi che cioè tu stai richiedendo una amnesia controllata allora era che dici tu non te voglio chiusflo'm de ke ga 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 stai ci fattendo suche frutte perchè voglio chiusrek ga 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 Non mi arrenderò mai, che giuro Ma catturò l'ampatina bianca perché è rosso per l'ansia, profondo rosso Odo a cattano kill No, è diventato sciombo l'orevovere all'improvviso E no, ma catturisca nuova e mirage Oh, stai cando parare il Il prossimo numero estratto, 46 Eh, ma ho sbattuto tutta la cacetta di yoga albicocca E tu quando in una cacetta l'hai sbattuto Boh, ma non c'è bisogno, ma anche il lucco è così assai Sai che vende che tira quando fa così La bronchita se stai vicino Sti zanzari in merda Avanti Tieni, questa te la sei dimenticata a casa mia Ti posso spiegare se vuoi? No, non c'è più niente da spiegare Boh, 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 boh E mi chiappate lo stati film che non c'è più niente da fare Ma non c'è più niente da fare Noi, per San Filippo, Bana e Bana Riello Beh, dal mondo della neomelodica è tutto Io vi ringrazio per aver guardato questo video Se vi va, è inutile dirvelo che se lo fate girare a me fa solamente piacere Vi voglio bene Vi ricordo che sono anche su Instagram Chiocciola Youtube per poter seguire Se volete gheghete Io mo me ne vado perché Ma perché? Ma perché me ne vado? Ma perché non resto qua 4-5 ore? A non dire niente?